benvenuti in questo nuovo video dei massimi esperti oggi con noi ci sarà il re di biker raft ciao Gabriele grazie grazie a te Mauri grazie mille sempre per la tua disponibilità come sapete a far parlare questo stronzo posso dire stronzo? lo spero come sapete questo tipo di intervista l'abbiamo fatto anche la settimana scorsa l'avete vista con Sommo Buddha oggi c'è il re di biker raft tutta la community bella di one piece per come sempre riuscire a creare questa condivisione che per il più c'è faremo una scaletta parleremo un pochettino delle ultime saghe un po' del biker raft e quindi voglio iniziare subito subito rompiamo il ghiaccio passando la palla al re mi raccomando come sempre tutti i social in descrizione anche del biker raft facebook, instagram telegram, youtube, twitch e one piece mania come sempre faccio un piccolo sarò velocissimo sarò cedere come sapete sempre le traduzioni super affidabili super dettagliate lì su one piece mania ne andate a leggere soprattutto queste qua di one che sono state ricche di richiami storico-culturali molto belli e lì non trovate errori detto questo ci proviamo senza errori le garanzie non le possiamo mai dare il massimo che si può fare il massimo come sempre un re va oltre e ti chiediamo subito ti chiedo subito non siamo due o tre ti chiedo subito entro la ya maestatis capito esatto esatto perché sto sempre con brucca catacuri che saluto quindi sono abituato cioè non so quasi mai da solo insomma tranne in queste interviste come nasce il biker raft allora come nasce il biker raft diciamo che è una storia che ha 13 anni perché io e frank ci siamo conosciuti 13 anni fa e da allora praticamente abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo creato poi in combo io e lui siamo passati di forum in forum insieme finché poi nel 2011 abbiamo deciso di provare a metterci la bocca anche noi a raccontare un po' la storia di one piece dal nostro punto di vista che diciamo era più più goliardico che altro perché comunque il nostro spito è sempre stato molto più da presa in giro che da altro le imbruttiture come le chiamate le imbruttite le imbruttite esatto esatto e quindi è nato questo programma che era su su Spreaker quando ancora Spreaker non era mainstream non lo conosceva ancora nessuno nel 2011 praticamente e abbiamo cominciato in sordina sul forum One Piece Gold è ancora è anche uno dei pochi ultimi forum ancora attivi della community di One Piece ogni tanto lo seguo ecco che lì c'era dentro Lord Kuhn Dario che è il nostro carissimo membro del Biker Art e poi da lì pian pianino ci siamo ritagliati il nostro spazio abbiamo creato poi la pagina YouTube YouTube scusami pagina Facebook e diciamo che il nostro picco è stato durante Dressrosa dove lì facevamo anche 4-5 mila persone live contemporaneamente su Spreaker erano veramente i tempi d'oro i tempi d'oro poi chiaramente siamo invecchiati il tempo è diventato più scarso da parte di tutti perché comunque poi non è più 20 anni comincia ad arrivare sui 30 35 comincia il lavoro la vita e quindi abbiamo abbassato i ritmi abbassato anche un po' lo spirito che eravamo anche stanchi anche noi e allora il canale poi sulla radio è un po' morto ci erano spostati su un canale un pochino più più attivo che era YouTube e nel frattempo abbiamo comunque ampliato la ciurma adesso siamo più o meno una decina di persone attive più alcuni satelliti qua e là che ogni tanto si fanno rivedere e diciamo che noi finché riusciamo a divertirci ci divertiamo e cerchiamo di divertirvi anche tante volte punzecchiando un po' le persone visto che siamo anche un po' fastidioselli ogni tanto ma fa parte del gioco lo spettacolo degli spoiler fake quello quello ogni tanto ci sta è bello è bello è una storia che va avanti da tempo e tra le community più vecchie tra virgolette che c'è sì si si chiamo che ci siamo fatti conoscere un po' tardi ma perché essendo su una piattaforma come Spreaker che era diciamo più di nicchia rispetto a YouTube o adesso a Twitch attualmente quant'altro avevamo il nostro gruppetto di persone che ci ascoltavano per noi bastava e avanzava cioè non ci interessava avere un audience di numeri altissimi per noi era una chiacchierata tra amici era il nostro motto siamo quattro amici che chiacchierano al bar di One Piece e poi c'è la gente intorno che ascolta e può partecipare liberamente alla chiacchierata e poi quando poi piaci diverti la gente vuole anche trovarti su altri lì e quindi abbiamo deciso di spostarci poi su YouTube e ancora adesso anche su Twitch è vero poi come mi raccontavi tu pure il fatto che Twitch c'è questo rapporto molto più diretto con chi ti segue quindi si saura anche un certo senso di seguito di queste persone questi ragazzi e ragazze che ci vedono più da vicino come posso dire siamo un po' più distanti pure a volte mi contattano a me grazie che mi hai risposto ragazzi ma noi siamo qui insomma no infatti banalmente se noi non avessimo la gente che ci segue ci supporta ci scrive non avremmo neanche senso di esistere saremmo non dico saremmo normalissime utenti ma lo avremo tra di noi insomma e basta esattamente quindi grazie a voi non grazie a noi noi siamo qua per voi per divertirvi i veri treni i veri treni sono loro esatto esatto senza il carbone il treno non va bravissimo ultimamente voi sarò seguendo pure parlo per me sicuramente molte ragazze che si stanno approcciando e questa è una cosa che ho detto è una cosa che mi fa grande piacere no ma infatti infatti io le ringrazio sempre perché sono poche veramente poche confronto chiaramente al pubblico maschile basta vedere le analitiche di youtube al 99% sono uomini ragazzi l'un per cento se tanto sono ragazzi però ecco devono farsi sentire secondo me anche perché con le volte che scrivono sono molto più puntuali molto più precise molto più come il sole come sempre nella vita insomma branduinata branduinata io ve lo dico perché a volte mi scrivono in privato anche per una questione di timid ragazzi voi scrivete che molto spesso come appena detto scrivete cose molto più sensate senza la distinzione di genere insomma è così 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 assolutamente assolutamente infatti dovrebbero avere anche molto più più spazio anche come volti perché siamo tutti praticamente tutti uomini cioè trova ragione se rifletti se c'è Fanny noi noi abbiamo Fanny la nostra quota rosa ma perché il Fanny è veramente infernale ma è una è una cavolo servono più più donne che io ho i moderatori adesso nella chat c'è una ragazza come moderatrice però sì proprio nella squadra la far partecipare in live sarebbe una cosa molto divertente non perché devi fare il cascamorto con la signorina non è quello è semplicemente perché io so che hanno veramente una visione più completa molto meno fumosa rispetto a tanti maschietti quindi c'è bisogno di concretezza nella vita bravissima e allora poi arriviamo anche al viaggio anzi no 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 parto da lì vai come fu perché l'ho accesso pure a Angelo nel video insomma come è stata la tua esperienza là in Giappone quando siete stati là nella patria no guarda sinceramente ci pensavo giusto ieri perché è passato un anno ormai siamo partiti che era fino a ottobre inizio novembre o no forse anche in questo momento che siamo anche un attimo bloccati o dicembre non mi ricordo comunque era quel periodo qua non mi ricordo esattamente quando siamo partiti era più o meno un anno fa e ti devo dire che ci sono rimasto veramente veramente molto molto contento del viaggio perché hanno una visione della vita che io apprezzo tanto sono puliti sono rispettosi anche in strada non c'è una cartina in terra io ti parlo di Tokyo Tokyo è una metropoli quindi pensare a una metropoli pulita è come pensare a una cacca che non puzza capito è uno simoro una metropoli pulita eppure Tokyo è pulita Tokyo è gestita bene e già questo ti fa capire tanto su come i giapponesi vivono la loro la loro vita nel complesso poi chiaramente hanno pro e contro come tutti hanno comunque questa molto lavoro 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 e poi la sera impazziscono vanno ubriacarsi io vi di per stare tutti ubriachi che fanno come negli anime che si tengono per spalle che ridono così cioè tu vuoi dire quelle scene negli anime nei manga pensi ma saranno veramente così sì sono davvero così confermiamo sì 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 e poi chiaramente l'esperienza anche la Shueisha è stato veramente emozionante vedere questo palazzone enorme pieno di manga pieno di poster pieno di cose di One Piece dappertutto destra e manca è stata veramente tanta roba lì dove nasce tutto lì dove nasce tutto lì dove nasce tutto anche la chiacchierata con Night è stata veramente un'esperienza dovevi il personaggio che tu dici cazzo questo uomo qua lavora con Oda stretto stretto ed è da lì in Bermuda e in Ciabatte che camminava per i corridoi con tutto pieno di robacce di One Piece in mano doveva andare a portare cose fantastico fantastico quella foto è stata emblematica eh sì sì è stata veramente tanta roba tanta roba con imbruttita tra l'altro perché certo si vi metto questa cosa sulle prossime SBS non ho mai messo niente meno se qua c'è il bugger half da loro insomma esatto esatto e che ti volevo dire che vi ha detto tu che pensi che finisca facciamo veloce in cinque anni no allora Kiko cosa penso io io penso quello che io ho capito esattamente dalle sue parole è che Oda ha in mano un materiale fisico per chiudere il manga in 4-5 anni se tu consideri che in un anno pulito senza cioè con le pause giuste ne fa fuori 40 40 per 5 sono 200 e 200 capitoli capisci anche tu che è il famoso 1200 di cui tanti si parla di cui tanti si vocifera che è l'esatta età del 600 del primo parte e 600 più 600 sono 1200 quindi avrebbe proprio senso fosse così poi che tiri a dritto fino a 7-8 anni per arrivare al trentennale quello lo sai anche tu che lo fanno vabbè basta mettere una pausa in più una pausa in meno e è un po' adesso la pandemia è un po' la pausa un po' che l'Oda è stanco un po' quello un po' l'altro cioè fai presto tiri 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 e invece di farle 4-5 ne fai 7-6-30 anni e festeggiamo tutti esatto fa senso fa senso allora passiamo a Crocus come è nata questa leggenda Crocus vero nemico infernale di gol di l'uomo il vero nemico è lui ma allora prendiamo il manga che così il manga carta canta e non possiamo sbagliare perché non possiamo sbagliare allora mi sembra che è il volume 82 esatto esatto quindi quando i Mugiwara vanno a a zoo e parlano scolpono questo rotto neglif c'è Nami che parla con i Norashi e gli chiede ma scusami quando siamo stati da Crocus Crocus ci aveva detto che l'ultima isola è Laftail anzi scusatemi e non questa penultima isola Lodestar e i Norashi gli dice scusami ma se Crocus non aveva motivo di mentirvi perché mai l'avrebbe fatto cioè se non gli avete fatto niente non ce l'aveva con voi è la verità e chiaramente qua il nostro arming del Doc Pini si è illuminata la lampadina e ha detto cazzo ma se in ora ci dice così è chiaro che Crocus aveva qualcosa contro di loro se gli ha mentito e allora chiaramente vai a fare tutto un po' di retcon e capisci che Crocus effettivamente è un diavolo di fatto finito anche perché se tu ci pensi e io te lo dico a te prova a pensarci Roger doveva morire un anno dopo quando si sono poi incontrati con con Oden praticamente Roger non muore mai perché poi si consegna lui stesso da me due anni dopo e viene ucciso per decapitazione quindi non è mai morto per malattia come Crocus gli diceva che sarebbe morto questi vari indizi fanno una prova è tutto scritto è tutto su carta Crocus è veramente un diavolo che ha mandato a morire chiaramente i Mugiwara come ha mandato a morire anche i pirati i Rumbar perché gli hanno collato la balena e lui quindi li ha puniti io mi tengo la balena però voi andate sì 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 lasciatela qua poi non pago entra nella balena le fa tutte quelle cose strane dentro per farlo soffrire dall'interno e non mai se la mangia pure esatto è furbo diciamo al pubblico dei massimi esperti che chiaramente è uno scherzo perché magari poi dicono mamma che cazzo sta dicendo questo qua è uno scherzo e ne assumo tutta la responsabilità potrebbe non esserlo ma potrebbe anche esserlo perché di Crocus sarebbe interessante capire quella mini avventura che ha suscitato grande idea in tutti queste grandi domande di quell'uomo di spalla che non si capisce eh sì eh sì perché c'è quel cappello di paglia che noi sappiamo abbiamo scoperto il fatto dell'intreccio eh sì è un casa di Wano ma anche il vestito è palesemente di Wano però nella color edition è biondo non può essere scicchi perché gli manca il timone conficcato nella testa esatto e quindi boh fosse stato un grigio potevi anche speculare che un guy era un un ex compagno di Roger in qualche modo ma a sto punto sinceramente per me è un cartonato messo da Crocus per ingannare il pubblico che qualcuno dico alcuni ti ci cervelli ma alla fine non era nessuno era da solo stava venendo da solo esatto 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 era una trappola per farci impazzire passiamo passiamo a Wano come la stai vedendo in generale questa saga e poi passiamo alla parte finale insomma allora Wano quando è iniziata non mi piaceva sinceramente i primi 20 capitoli mi hanno annoiato da morire l'ho trovata abbastanza lenta soprattutto considerando che arrivevamo già da Wall Cake che è stata lentissima e da quelle capitoli di Reverie in cui io mi aspettavo il mondo e poi invece l'ha troncato sul più bello e quindi a me ha lasciato un po' di di cazzimma addosso che mi volevo ancora di più e invece poi mi sono trovato Rufy che arriva tranquillo poi la scimmia e il Komainu poi c'è il torneo di sumo con lo Yokozuna del paese e lì per lì a me un po' mi ha lasciato un po' un po' annoiato fortunatamente poi è arrivato il flashback di Oden e per me è stata una scarica di adrenalina che ancora ne sto giovando perché non sto assolutamente subendo questo questo lunghissimo terzo atto in cui si stanno questa battaglia non battaglia battaglia non battaglia esattamente infatti ne parlavo proprio prima che avevo fatto un live su Twitch così giusto per fare due chiacchiere con i fan e appunto come dici tu adesso battaglia non battaglia sembra proprio che questa guerra non sia effettivamente una guerra perché se tu ragioni sulle persone in campo tu hai i dieci Mugiwara da una parte più i nove foderi e siamo a diciannove aggiungici Yamato siamo venti uno con shinobu ventuno e questa diciamo che è la parte forte dei buoni poi beh c'hai anche Law e Kid ok siamo venticinque persone più o meno dall'altra parte hai Kaido King Queen e Jack hai sei Tobi Roppo e quindi siamo a dieci ci aggiungi Apu Hawkins Drake è passato dall'altra parte quindi non c'è più neanche Drake hai dentro dieci numbers più o meno come numeri siamo sulla trentina da entrambe le parti come personaggi in campo che sono forti quelli veri quelli veri della battaglia essenziale poi hai montagne di scartine intorno che fanno numero fanno massa ma sai anche tu che non gli dedicherà mai spazio narrativamente parlando assolutamente ora come ora siamo quasi al capitolo 1000 Rufi sta salendo sta facendo la scalata di Onigashima adesso che c'è i vari un misto fra il Beldan Dressrosa non si capisce si sale sempre si scende si sale sempre c'è sempre una scalata c'è sempre una scalata fin da quando siamo avvizzati con One Piece è sempre stata una scalata e quindi la mia previsione era semplicemente che lui adesso in 4-4-8 arrivasse su quindi fai qualche capitolo la sua chiuderà il volume 98 adesso con i due capitoli nel volume 99 ci sarà il capitolo 1000 io pensavo comunque ci potesse essere il flashback di Kaido con Ksebek e quant'altro perché penso che sia forse la cosa più interessante in questo momento da mostrarci a questo punto della storia ma a conti fatti questa grande guerra che stiamo vedendo non è una guerra non riesco neanche a prefigurarmi chissà quanti capitoli di mazzate perché siamo già arrivati al fulcro cioè Ruffi sta salendo arriva da Kaido e poi non penso che faccia 30 capitoli di botte tra Ruffi e Kaido se ne fa 10 è tanto per una battaglia 10 con anche perché poi effettivamente è bravo quando deve far mostrare proprio l'atto del combattimento Oda non è mai lento cioè è molto disbrigativo in quelle fasi lì lui sì sì ma pensa anche al combattimento contro Doflamingo contro anche Crocodile per dirti o anche Luci se sono combattimenti spezzettati capitolo su capitolo ma in totale non è mai più di un volume di botte completo quindi questa guerra non scoppierà nemmeno secondo me cioè sarà una faida tra due fazioni piccole perché sono 30 e 30 più il contorno di diciume varie minions ma non avremo questa grande guerra che si era vociferata la guerra l'avremo probabilmente alla fine con tutti in campo questa è più la battaglia di Onigashima una cosa che rimarrà confinata lì secondo me no ma sono d'accordo perché alla fine se assesti King e Queen da una parte che li intrattengono e poi Rufi arriva lì quelli sono gli sconti cioè non è tipo Marineford come dissero non è una battaglia totale come potremmo definire esattamente esattamente ma anche perché poi i personaggi della fazione di Kaido di interessante c'è rimasto Kaido dobbiamo capire un po' chi è che cosa ha fatto perché è King poi di Queen non ti interessa chi è cosa ha fatto cosa è stato cioè non te l'ha neanche proposto per farti capire che ha qualcosa dietro esatto non ti ha fatto vedere un qualcosa di misterioso come invece in King è infernale è proprio infernale come personaggio veramente Jack l'ha tolto dalle palle quindi Jack però lui si porta a Zou appresso quindi alla fine c'è un passato a livello di capitoli esatto esatto dall'ultimo capitolo ma noi ne abbiamo già parlato perché ne ha fatti diversi video anche con Karaguri la disfatta di Kaido le possibili origini le possibili origini di Zou tutte queste qua e parlavo anche del fatto che probabilmente prima che presentassero la Emma ci poteva essere Zou perché per ovvi motivi e lui lo spadaccino sbarra samurai nell'ultimo capitolo Kaido dice non ci sarà mai nella traduzione effettiva poi me la dici meglio tu uno così grande uno così mostruoso come Oden si si dice così dice così voi siete stati bravi siete stati bravi lui lo dice ma purtroppo in poche parole vuole dire vi siete impegnati questo è il massimo ma si 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 di Oden uno è come lui non c'era nessuno esatto indirettamente però abbiamo pensato che a noi lettori ci vuole trasmettere questa apertura che probabilmente Zou riuscirà a fargli una ferita pesante in questo senso ma sai che lo mette sempre con Luffy però tu che ne pensi di questa cosa allora da quello che ne è valso da tutti i discorsi cioè anche quando i foderi colpiscono Oden lui continua a dire che è grazie all'ambizione di Oden che loro riescono a colpirlo no il fatto del rio esattamente il rio esattamente e il fatto che la spada Emma non sia comunque diventata nera questo significa che non è stata comunque intrisa dall'ambizione di Oden quando lui combatteva con Emma mi lascia un po' perplesso perché sul fatto che Zoro possa effettivamente fargli del male più di tutti i foderi insieme non tanto perché Zoro non ne possa essere ma perché probabilmente la spada non è ancora sua a quel punto di poter effettuare una determinata azione del genere però sai ce lo vedi meglio tipo contro King come si io sinceramente vedo più Zoro Sanji Frank e quant'altri con i sottoposti Rufi probabilmente potrebbe combattere contro Kaido insieme a Lo e Kid e avrebbe un suo perché perché portarli lì sia Kid che Lo se non fa la visione delle tre super nove che abbattono i tre capitani che abbattono anche perché l'alleanza Rufi è nata per sconfiggere Kaido se non la sconfiggono insieme non vale più il progresso perché averli fatti alleare insieme se poi non li porti lì insieme Kid è la mina vagante però sono stati in prigione insieme e la variabile la variabile quella la grossa no piccola quella molto grossa che in un paio di capitoli fa stavo parlando con Marco la venice come la vedi tu ma Marco è un personaggio che frutto a parte non mi è mai piaciuto quindi non riesco neanche a inquadrarlo all'interno di questa saga è venuto lì sembra venuto lì per sbaglio visto che c'era anche il bigliettino sì forse passo vediamo io speravo venisse con gli altri diciamo pirati di barbaba cioè quelli sopravvissuti del Bob no? eh invece ovviamente o non è sopravvissuto nessuno quindi Barbanina ha fatto man basta la strage è rimasto solo lui e Izzo probabilmente non saprei altrimenti perché sembra venuto lì proprio per per tenere a vada non so per Ospero non lo so è lì è lì ma è come se non ci fosse per come non ha ancora agito e Big Mom che dici? eh Big Mom è per me è la vera incognita di tutto quanto è possibile che lei ce la portiamo avanti anche dopo secondo me perché quella faccia che ha fatto quando per Ospero dice mamma ma tu dovresti andare alla regina dei pirati e dice perché non ti fidi là ti fa capire già che c'è qualcosa sotto che lei è pronta se tu pensi quando si sono alleati lei e Kaido hanno detto una cosa cioè hanno detto che noi stiamo insieme finché conquistiamo le armi ancestrali per il One Piece e una volta che abbiamo conquistato il One Piece torniamo a farci le fette io e te per decidere chi è il più forte tra i due e quindi già da lì ti faceva capire se le sono promesse già tu dici esattamente esattamente poi lei è veramente la mente stratega all'interno di queste maxisaghe perché Kaido è un combattente non è uno che sta lì a pensare le strategie va di panza e basta Big Mom ha la panza ma ragiona con la testa infatti la sua intelligence è la migliore del mondo ed è uno stratega vai direi l'ultima cosa allora vai vai cosa ti aspetti cosa hai che tu vuoi vedere nel Capitone allora non mi aspetto niente perché farmi aspettative come dicevo anche ai ragazzi rischi poi di caderti fai male e ci rimani anche male una delusione esatto l'ho imparato le mie spese l'ho imparata questa cosa qua negli anni quindi ho smesso di farmi aspettative diciamo che ti dico cosa penso possa succedere ovvero che come dicevo anche nel video che ho fatto sul canale che cominci questo flashback di Kaido in cui andremo poi a capire effettivamente tutto il legame con Rox e quello che poi è successo a God Valley che se non se lo spiega adesso non saprei quando infilarlo all'interno della trama visto che dopo Kaido dovrebbe esserci Barba Nera e dopo Barba Nera il gran finale se non è adesso quando e God Valley è probabilmente la chiave per capire determinate situazioni anche quando parlavi fatto dei tradimenti quelle cose lì tradimenti ma anche tutto il legame probabilmente questo God Valley c'è qualcosa a che fare o con le armi ancestrali o con il regno antico qualcosa comunque di grosso che ci porterà al finale magari il suo passato anche perché beve sempre chissà poi chiaramente tutto il legame con Kaido ci sta perché poi c'è da capire appunto con la figlia c'è da capire il debito che ha con Big Mama perché lei dice che è nostro debito con lui c'è da capire perché lui abbia questa cosa di non uccidere i suoi avversari ma schiacciargli la volontà per renderli i suoi sottoposti ci sono tante piccole cose che di Kaido non si aveva ancora più chiaro il perché lui faccia così fino adesso è visto come il grosso boss il grosso cattivo è più profondo di quello che sembra bravissimo bravissimo solo che lo maschera bevendo e nascondendosi dietro questa sua aura di mostruosità e cattiveria ma probabilmente la bestia il mostro è molto più buono di tanti altri personaggi sì probabilmente sì hai ragione ma solo poi vediamo vediamo cosa succederà io sono sempre aperto qualsiasi situazione ti giuro dopo il reverie io ci sono rimasto normalissimo che non ho visto tante cose quindi ho detto basta io non mi aspetto più niente quello sì se cosa succede va bene va bene va bene così la prendo con filosofia e vado avanti passiamo la M in mano a Sanji lo batte lui a Kaido così è contento dell'emelo fantastico lui non usa i colstelli per non sembrare troppo forte rispetto a no sto scherzando sto scherzando assolutamente no no Delli ha sempre ragione infatti io ci provo sempre Delli guarda ci sono con i video con Katakure c'è questo video che abbiamo fatto su Zolo le sue origini il suo legame con gli Shimotsuki vedi Yasue Kozaburo c'è questa cosa il maestro no 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 top reggitore nessuno Shimotsuki non esiste Delli potrebbe emulare Ryuma teneva la Shusui magari anche lui può tagliare il drago ragazzi basta con queste cialtronate c'è degli sfogliatori pallese capitolo Sanji centrico Zoro batte qualcuno c'era il Sanji dietro tranquillamente poco ma sicuro poco ma sicuro nel capitolo scorso Sanji stava correndo Sanji protagonista di Gimbe questo è il titolo il capitolo scorso gli ha tirato veramente un'imbruttita cosmica Sanji a Gimbe ce l'ha rimesso a posto in un secondo che cazzo vuoi sono io sto correndo come un pazzo come un pazzo improvvisamente cosa vuoi ci metti vai fuori esci fuori esatto non devi parlare come ti permetti come ti permetti un po' di nonnismo ci sta in ciurma quindi è appena arrivato dai eh sì è novellino è novellino comunque grazie abbiamo fatto una bella ghiaccerata una mezz'oretta durata così ragazzi passate da tutti i link in descrizione del bike craft come sempre avete una data precisa diciamo quando fate le live su twitch c'è una continuita facciamo il venerdì sera alle nove c'è diciamo sono i ragazzi che analizzano il capitolo che è uscito in giornata quindi su quelle traduzioni che sono uscite nel momento quindi può essere il capitolo in inglese fatto male o quelle coreane se quello che capita capita e quindi ne parlano le traduzioni diciamo approssimati fanno fanno una chiacchierata molto molto in simpatia vedendo cioè fanno un po' di analisi e così mentre la domenica alle 18 abbiamo la traduzione fatta da noi quindi la leggiamo e la commentiamo insieme questi sono diciamo gli appuntamenti fissi su One Piece della settimana più le altre live aggiuntive poi varie eventuali in settimana quelle ci sono sempre quindi passate dal twitch del bike craft da youtube da instagram telegram e soprattutto facebook che lì ci sono sempre gli spoiler speciali no sempre no ogni tanto ogni tanto ogni tanto gli spoiler speciali e passate anche da One Piece e lì trovate sicuramente le traduzioni dal mio punto di vista fatte benissimo assolutamente ringrazio anche la tua community che è veramente una community di belle persone veramente un gran un gran gruppo di persone che vi seguono molto animati e molto contenti di seguire questo manco quindi ti faccio i complimenti per avere radunato questa brutta gente ringrazio è tutto poi appena riusciamo ci organizziamo per una live nelle schede vi lascerò quindi tutti i link del bike craft vi lascerò anche le schede dei nostri video vi lascerò la playlist delle videoteoria così vi lascio anche quello di Zoro che nel caso in cui dovessi andare dell'email a imbruttirci si vedrà di nuovo il video sull'origine di Zoro ma sai che secondo me poi ti lascio chiudere cioè Zoro fa parte degli shimoshuki ma da parte di madre cioè lui è cugino di cuina tipo la madre e la sorella di koshiro bravo bravissimo bravissimo chiudiamo con questa chiudiamo con questa questa è una massima mi dispiace dell'email l'ha detto anche il re di Baggeraff ciao ragazzi grazie a tutti mi raccomando lasciate un like con i video e passate anche dal Baggeraff no